Sappiamo tutti che il Cagliari ha degli ottimi giocatori, soprattutto è una grande squadra, poi magari una classifica dice che se vinciamo ci avviciniamo tanto, ma come abbiamo visto che appena perdi due partite ti ritrovi giù nel fondo e assolutamente, io penso che se domenica scorsa era una partita non difficile di più, questa è ancora peggio, nel senso che sarà ancora più difficile. Noi dobbiamo assolutamente fare il nostro con la testa giusta e affrontare al meglio questa partita. È giusto che sia così, in Verona abbiamo fatto un'ottima partita su certi aspetti, poi secondo me in dettaglio hanno fatto la differenza e noi dobbiamo portarla anche questa domenica dalla nostra parte, dobbiamo curare i dettagli, che sono una cosa che ti fa vincere le partite. Infatti assolutamente noi arrivati, a parte Ricci comunque che non c'è un ambiente, ci sono subito torati bene, non lo dico perché veramente già vedi che scherzano, ridono insieme a noi, quindi questa è una cosa positiva del nostro gruppo che è veramente la nostra forza, non dobbiamo mai perdere questa cosa qua. Io penso che la società lavora bene, sa quello che manca, sa quello che ha richiesto il mister, poi qualsiasi giocatore che viene, cerchiamo di farlo rendere al massimo e quindi dobbiamo fare assolutamente l'errore di vincere, subito di vincere, con la mentalità giusta, la testa giusta, loro verranno qua per far punti, questo mi aspetto. Il mister ci ha imposto la mentalità di giocarcela con tutti, perché vedo il nostro potenziale, sa che possiamo giocarcela con tutti, ma penso anche il mio modo di vedere, quindi è una cosa che ci fa risaltare le nostre qualità. Ti permette di giocare di più la palla e di offendere più che l'altro, quindi è una cosa che mi fa piacere. Grazie a tutti.